Arezzo, primo ospedale in Toscana per numero di pazienti covid curati con anticorpi monoclonali che hanno l'obiettivo di evitare complicanze in pazienti che hanno l'infezione da SARS-CoV-2 che allo stesso tempo hanno delle patologie croniche. I 163 pazienti trattati presso l'ambulatore di malattie infettive dell'ospedale San Donato oltre al covid, afferma il direttore Danilo Tacconi, presentavano altre patologie croniche previste dal protocollo AIFA per le quali potevano essere candidabili a questo trattamento. L'integrazione già presente da tempo del territorio USCA, medici di medicina generale 118 e il resto dell'ospedale ha permesso di avere il numero più elevato di pazienti trattati con questo farmaco di tutta la Toscana. Gli anticorpi sono somministrati entro i primi 10 giorni di insorgenza dei sintomi, meglio ancora se avviene nei primi 5 e contrastano con efficacia l'effetto del virus che poi potrebbe innescare una reazione infiammatoria. Il reparto di malattie infettive del San Donato inoltre è stato inserito tra i centri per la sperimentazione di un altro tipo di anticorpo monoclonale del gruppo di ricerca della Fondazione Toscana Life Sciences, coordinata dal professor Rino Rappuoli.